e Matteo Piano tra i grandi protagonisti di questa sfida Matteo insomma che dire veramente una bella prestazione la vostra e in tutti i fondamentali specialmente in difesa ma anche in attacco nei momenti decisivi lo tengo io lo tieni te tengo io va bene sì sono contento della partita abbiamo giocato questo quinto posto non è come dire è difficile no perché giochiamo tante partite dopo l'intera stagione quindi ogni gara veramente una storia a sé si è riuscita a portare oggi a casa una gara che per ammarco secondo me potevamo chiudere in in tre set quindi bisogna essere ambiziosi e migliorare le piccole cose secondo me quella è una piccola cosa a migliorare poi per il resto è giocato una buona partita sì. Sintonizzati contro Ravenna insomma ormai non vi siete ancora fermati in questo playoff non avete ancora conosciuto il sapore della sconfitta immagino vogliate andare avanti a continuare per coronare diciamo così una bella stagione per voi. Sì è l'obiettivo che abbiamo è questo di inseguire di nuovo la qualificazione per la challenge siamo in campo balliamo e andiamo avanti ci mancano tre partite è importante sicuramente arrivare nelle prime due posizioni per giocare poi in casa